Stavano effettuando dei controlli a Cison di Valmarino quando gli occhi attenti dei carabinieri si sono fermati sulla finestra di un negozio di alimentari andati frantumi. A terra una macchia di sangue. Subito militari dell'arma sono scesi per verificare, visto che il piccolo supermercato doveva essere chiuso. Lungo la strada una scea di sangue. Seguendo questa scea delle tracce di sangue, in londananza, circa 150 metri dal luogo, hanno rilevato la sagoma del soggetto che nel tentativo di nascondersi dietro il muro di recinzione di una chiesa è stato fermato. La mano aveva una ferita provocata dai vetri della finestra rotta. L'uomo, un senegalese di 27 anni pregiudicato, indossava fra l'altro un giubbotto con sospetti rigonfiamenti. Così è stato perquisito. Il 27enne aveva nascosto 443 euro in contanti, somma rubata dal registratore di cassa del negozio, una stecca di sigarette e ben 250 grattevinci di vario taglio per un valore complessivo di 1248 euro. Fra l'altro il senegalese avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari per precedenti reati. Così, oltre all'accusa di furto aggravato, dovrà anche rispondere di evasione. Medicata la ferita all'ospedale di Vittorio Veneto è stato accompagnato presso la casa circondariale di Treviso. La rifurtiva è stata subito riconsegnata al titolare del negozio. Un altro importante risultato grazie ai continui controlli dei carabinieri.